buona giornata amici ben trovati siamo qui pronti per la rassegna stampa di panel tv oggi è venerdì 2 giugno 2023 è la festa della repubblica ma oggi vediamo anche chi si festeggia si festeggia a due santi san marcellino e pietro erano uno prete l'altro esorcista sono due martiri cristiani che furono uccisi furono morirono per la loro fede durante l'impero romano san marcellino e pietro le previsioni del tempo abbiamo un tempo ancora buono su buona parte della regione salvo qualche instabilità nel pomeriggio a ridosso delle pedemontane ci saranno qui rovesci temporali forse anche localmente intensi le temperature sono stazionarie tra i 16 e 26 gradi le temperature massime si elevano progressivamente i venti sulle coste vengono da ovest sud ovest mentre sull'entroterra da sud ovest il mare è calmo e allora apriamo apriamo subito il giornale a partire oggi dal resto del carlino ecco qua l'apertura l'apertura viene dedicata a due mamme sono non sono delle autorità ma sono due mamme semplici ma due mamme importanti perché sono delle portavoci di una esigenza che è molto diffusa nella città vediamo il titolo l'appello delle mamme più posti nei nidi carmen stornaiolo e cristina filipetti hanno lanciato una petizione tutti i bambini fanesi avrebbero il diritto di usufruirne di questo servizio ebbene ancora oggi mentre in italia il calo delle nascite rende sovrabbondante l'offerta dei servizi per quanto riguarda gli asili e le scuole materne a Fano succede il contrario a Fano abbiamo domande che superano la disponibilità di queste strutture ecco perché queste due mamme che vediamo qui nella fotografia invitano l'amministrazione comunale ad aumentare i posti per accogliere nelle loro strutture pubbliche un numero maggiore di bimbi in modo particolare quelli degli asili nido quelli che hanno un'età che va da zero a tre anni sia durante l'anno scolastico che durante il periodo estivo perché anche il periodo estivo i genitori che entrambi lavorano hanno bisogno di questo servizio a sostegno di questa richiesta alcuni giorni fa hanno lanciato su change.org la petizione più posti nei nidi e nei centri estivi del comune di Fano città delle bambine e dei bambini hanno appunto dichiarato petizione nella quale si forniscono anche alcuni dati vediamo in particolare per quanto riguarda il centro astrivo zero tre anni attivo al grillo dal 3 luglio al 4 agosto i posti disponibili sono 55 qui sono stati già incrementati rispetto all'anno scorso rispetto ai 40 dello scorso anno quindi abbiamo 15 posti in più ma non bastano in quanto le domande presentate all'amministrazione comunale sono state 81 e i bambini in lista di attesa sono 26 e non c'è posto nemmeno negli asili privati perché le disponibilità sono state tutte coperte la città dei più piccoli si fa con gli eventi hanno dichiarato ma non si fa ma soprattutto si fa con i servizi ecco perché la città dei bambini deve essere appunto molto molto più disponibile nei confronti di questo ma a questo proposito vediamo anche un articolo che pubblica il Corriere Adriatico per quanto riguarda la città dei bambini non siamo la città dei bambini non basta chiudere l'Adriatica una o due volte l'anno una durante il carnevale dedicata ai bambini anche ai bambini e una dedicata alla città da giocare che si svolta domenica scorsa il comitato per una viabilità sostenibile protesta per i mancati provvedimenti insomma non abbiamo fatto grandi progressi da quanto è stato istituito da quanto è stato accolto approvato questo progetto oltre 30 anni fa abbiamo ancora una situazione per quanto riguarda la sicurezza viabile alquanto precaria oggi per esempio dunque vediamo quali sono i suggerimenti anzi diciamo quali sono i problemi che evidenzia il comitato andiamo a scuola da soli e iniziata al poderino e al vallato è visibile solo con qualche segnale stradale ma non è molto praticata la pista pedonale ciclabile dell'Arzilla pensata per andare a scuola in sicurezza dei bambini di Gimarra è oggi una ciclabile per raggiungere solo la movida del Lido non viene percorsa dai bambini la piccola area gioco dietro la palestra trave è stata trasformata dopo anni di abbandono in uno sgambatoio per cani le aree libere i cosiddetti vuoti urbani aree catastalmente improduttive vengono trasformate in aree parcheggio per camperisti o piste di puntrac le strade comunali dismesse sono dimenticate e impraticabili i torrenti e i fiumi sono sempre non raggiungibili in sicurezza e quindi questa è un po' una situazione critica per quanto riguarda lo stato della città nei confronti dei bambini e allora per rendere veramente fano la città dei bambini occorre realizzare opere e cambiare veramente il volto della città allora ritorniamo al resto delle Carlino e vediamo un articolo a fondo pagina dove appare un volto noto e quello di giuliano lucarini giuliano lucarini ex consigliere regionale ex sindaco di san costanzo attuale componente del consiglio generale della fondazione carifano e giuliano lucarini cosa fa evidenzia il contributo i finanziamenti l'attenzione che la fondazione carifano ha rivolto non solo nella città di fano ma anche nel territorio circostante che rientra nella sua competenza dopo il contributo di 30 mila euro che ha consentito di integrare investimenti che sono stati necessari per recuperare il bastione sant'anna di mondolfo e 50 milioni al restauro dell'oratorio dell'ascensione a palazzo di pergola la fondazione sta definendo un altro importante intervento con il comune di terre roveresche sta per definire un contributo pluriennale per il recupero del palazzo anzi diciamo meglio il castello di montebello il castello di origine medievale dove dimorò la vigna feltria della rovere personaggio di spicco nel rinascimento ebbene la vigna abbiamo anche era anche protagonista di un bel romanzo scritto da leandro castellani nei giorni scorsi ha detto lucarini c'è stato un incontro sopra luogo a cui hanno preso parte e il presidente della fondazione giorgio gragnola oltre al sindaco antonio sebastianelli ebbene un importante intervento anche questo che così valorizza le risorse del nostro territorio tiriamo la pagina vediamo un altro articolo che è importante perché ieri si è inaugurato e la ventunesima edizione del brodetto feste sua maestà il brodetto l'inaugurazione è servita ieri l'apertura del festival più ghiotto oggi ci sarà la gara nazionale delle zuppe paolo marchi la tradizione deve continuare a rappresentare una identità ebbene è partita veramente in grande ieri c'erano molte autorità sul palco centrale di lungomare simonetti a fano la ventunesima edizione del brodetto feste quattro giorni dedicati al piatto simbolo dell'adriatico piatto simbolo anche del settore della pesca che evidenzia l'aspetto le risorse le prospettive anche i problemi perché sulla pesca incombono dei grossi problemi come per esempio l'intento di sopprimere da parte della unione europea la pesca strascico ebbene oggi ci sarà la gara nazionale dei brodetti e zuppe di pesce con le semifinali alle ore 13 al pala brodetto e tra gli chef si confronteranno alessandro verna che cucinerà scusate il brodetto alla fanese e david per il sinotto che cucinerà un brodetto di origine veneta e poi abbiamo anche altri convegni altre iniziative importanti che seguiranno quella importante che si è svolta ieri sera alle ore 21 e 30 sempre all'ido dove è apparso un personaggio molto simpatico un gran affabolatore il conduttore di freedom roberto giacobbo ebbene con la sua verve con la sua capacità di raccontare ha parlato di archeologia ha parlato di cibo ha parlato di tante esperienze che gli stesso ha vissuto e si è ricordato anche quando quattro anni fa è venuto a fano e ha svolto un servizio sulle testimonianze archeologiche della città è andato negli scavi di sant'agostino ha visitato san francesco per quanto riguarda le tombe dei malatesti e ha parlato soprattutto di vitruvio questa rinnovando quella aspettativa che ancora così deve essere meglio puntualizzata con ulteriori scavi per quanto riguarda i ritrovamenti che sono stati effettuati in via vitruvio che ancora devono essere ripresi e ieri è stata presentata anche la nuova edizione di impronte femminili una serie di incontri che caratterizzeranno per tutta l'estate il territorio dalla costa all'entroterra sono molti i comuni che partecipano a questo programma che è stato varato dall'assessore alle pari opportunità a Sara Cucchiarini mostre spettacoli letture presentazioni di libri sono una trentina gli eventi che fanno parte di questa rassegna la rassegna parte proprio oggi parte a fermignano con una mostra e poi proseguirà fino all'otto settembre quando ci sarà un un'iniziativa importante a conclusione di questo ciclo ovviamente protagonista sono le donne e loro donne con le loro capacità con le loro arti con i loro interessi con la loro importante presenza nel territorio e allora vediamo ancora notizie per quanto riguarda l'entroterra siamo a Mondolfo e abbiamo una notizia non bella devo dire la guardia medica di Mondolfo è stata azzerata e la città insorge nessun servizio nessun servizio per un periodo così delicato come l'estate quando le presenze dei residenti aumentano per quelle dei turisti il consigliere di opposizione Mancini dice siamo in estate e la popolazione aumenterà con l'arrivo dei turisti perché qui dove vivono 14 mila abitanti e operano due case di riposo e una RSA dobbiamo essere al palo e mancando la guardia medica veramente manca un servizio essenziale perché quando non sono disponibili i medici di base a chi ci si può rivolgersi guardia medica nuovamente azzerata a Mondolfo e allora che cosa bisogna fare bisogna insistere per ottenere questo servizio è un problema questo che si trascina dal marzo del 2022 quando Mondolfo ha avuto la guardia medica a singhiozzo un po' c'è stata un po' non c'è stata ed ora non c'è per niente e questo insomma viene rivolto è un pensiero rivolto alla regione perché se la regione veramente si impegna a qualificare i servizi sanitari non può rinunciare alla guardia medica a Urbino a Urbino si è festeggiato il patrono san crescentino con una partecipatissima processione che si è svolta appunto nel centro storico e la statua del patrono è un soldato romano che è stato martirizzato è stata riportata in Duomo con grande partecipazione c'era anche il nuovo vescovo è il nuovo vescovo che all'inizio è stato contestato per quanto riguarda la perdita della diocesi di Urbino ma ora è stato accolto con affettuosità san crescentino prende la mano salvucci prende per la mano salvucci questo è il titolo appunto che fa riferimento a questo cambiamento di atteggiamento della città ma era ovvio che accadesse questo l'emozionante prima processione del nuovo arcivescovo tutti gli occhi puntati sul prelato la folla ha guidato ritmi e pause del rito e lo stesso arcivescovo si è adeguato insomma alla tradizione con cui Urbino onora il suo patrono tutti gli occhi erano per lui presenti anche i due arcivescovi emeriti francesco marinelli e giovanni tanni che quest'ultimo ha concelebrato la cerimonia e poi un momento momento importante è stata la corsa al garofano benedetto vedete come la statua di san crescentino è circondata da dei garofani rossi ebbene abitudine degli urbinati prendere un garofano portarlo a casa farlo essiccare tenerlo come appunto devozione per il santo fino a rinnovarlo al prossimo anno insomma è stata una bella festa teniamo ancora la pagina sul resto del carlino anche il governo tutelerà la scrittura a mano sembra che si perda la scrittura a mano perché ormai tutti usano la tastiera nel progetto di legge presentata da Monica Ciamburro si prevede che un comitato con due rappresentanti dell'istituto grafologico Moretti di Urbino possa appunto così perseguire questo obiettivo quello della salvaguardia della scrittura a mano un'azione complessa una caratteristica che è un simbolo di civiltà la scrittura a mano e poi bisogna anche saper scrivere bene perché poi se uno scrivere con una calligrafia illeggibile veramente la situazione si perde per evitare che si perda veramente il governo ha elaborato una proposta di legge la prima firataria e la deputata di Fratelli d'Italia Monica Ciamburro che istituirà la giornata nazionale della scrittura a mano da celebrarsi il 23 gennaio ogni anno quindi ogni anno il 23 gennaio facciamo una bella lettera scritta a mano magari indirizzata a una persona che ci sta a cuore sarebbe una bella iniziativa. Sindaco alleato dei bambini contro le barriere a Sasso Corvaro auditore Daniele Grossi, il sindaco Daniele Grossi in due anni ha trasformato molte strutture del paese rendendolo più accessibile ai disabili e quello dell'eliminazione delle barriere architettoniche dovrebbe essere sempre uno delle prime emergenze di una programmazione amministrativa a favore dei cittadini soprattutto a favore dei cittadini più deboli. Tiriamo anche la pagina e vediamo una replica del sindaco di Fossombrone Massimo Berloni al comitato che lo aveva accusato di non aver difeso convenientemente l'ospedale della sua città. Io non ho mai taciuto sull'ospedale, ha replicato Berloni lavoriamo per portare a casa tutto quello che si può, qui si fa una sterile demagogia. Ebbene gli impegni dell'amministrazione comunale di Fossombrone sono quelli di potenziare la diagnostica e il laboratorio, mantenere e accrescere i posti letto disponibili, conservare i servizi territoriali, migliorare la capacità di diagnosi e trattamento di patologie di bassa e media complessità pretendere poi servizi ambulatoriali articolati, stabili ed efficienti e risposte congrue per i casi di emergenza urgenza. Questo è l'impegno che ha assunto il sindaco Massimo Berloni per qualificare il servizio sanitario della sua città. Vediamo anche qualche notizia di Pesaro dove c'è stata una festa dedicata agli ucraini. Il piazzale della libertà si tinge di azzurro e giallo che sono i colori della bandiera dell'Ucraina. Oltre 400 ragazzi provenienti da 5 città del paese in guerra hanno danzato, hanno festeggiato, sono stati accolti dalla città di Pesaro. Tra loro anche chi quotidianamente vive la tragedia, vive sotto i bombardamenti, insomma, e ha perso anche molti amici e molti parenti. Ci aiutate a tirare avanti, hanno dichiarato questi giovani ospiti di Pesaro. Sono 400 ragazzi provenienti da 5 diverse città dell'Ucraina, Brezesani, Ternopil, Shubsk, Kremenech e la capitale Kiev. Tra loro anche chi quotidianamente vive lo scontro armato, si ripete appunto sul giornale. E poi vediamo che è stato inaugurato al parco degli Scarpellini il ponte del Rinascita. 30 mila euro, una nuova infrastruttura per riportare alla funzionalità il polmone verde del quartiere. Ricci e Pozzi, sindaco e assessore, un intervento importante che più volte c'era stato sollecitato per recuperare l'area. Ci sono voluti 30 mila euro per un nuovo ponte in legno per riportare la piena fruibilità di questo parco che da ieri fino a domenica 4 giugno ospiterà nella sua bella cornice verde la fiera regionale del riuso organizzata dalla Onlus Gulliver. A questo punto vediamo il Corriere Adriatico. Abbiamo visto che l'apertura è dedicata al Brodetto. Turisti presi per la gola. Il piatto a Lido è in 30 ristoranti. Il piatto a Lido sarebbe ovviamente il piatto del Brodetto. Vediamo qui la parata di tutte le autorità che ieri hanno tagliato il nastro. Vediamo chi sono. Abbiamo il presentatore Paolo Notari, il giornalista televisivo. Poi abbiamo l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, l'onorevole Antonio Baldelli, il sindaco Massimo Seri con la sua fascia tricolore che sta tagliando il nastro. Poi abbiamo Pier Stefano Fiorelli che è presidente provinciale della Confesercenti, l'associazione di categoria che organizza il festival. E poi abbiamo Stefano Aguzzi, l'assessore regionale. E quindi abbiamo il magnifico rettore dell'Università di Urbino Calcagnini e il direttore generale del Ministero della Pesca e dell'Agricoltura, Stefano Scalera, qui in fondo del gruppo. Anche il Corriere Adriatico dedica spazio a impronte femminili, alla sesta edizione, incentrata sulla identità delle donne, che inizia oggi a Ferminiano. Partecipano diversi comune, affano ovviamente tanti gli appuntamenti. Abbiamo già dato attenzione alla critica che si fa all'amministrazione comunale per quanto riguarda la città dei bambini. Passiamo dunque oltre e vediamo la cronaca. Schianto contro un'auto, soccorso un motociclista. Feriti anche i due bolognesi, per quanto riguarda ieri, nello scontro tra due mezzi. Il traffico è andato in tilt. Siamo a Metauriglia di Fano. Risultato ferito un fanese di 64 anni, nello scontro tra il suo motociclo e un'automobile di marca Manda. È accaduto intorno alle 10.20 questo incidente. L'uomo è stato trasportato con il 118 in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce. Giungla nel letto del fiume, così il metauro esonderà. I residenti di Borgo Sant'Antonio, nei pressi di Fossombrone, rinnovano la richiesta di pulizia alla regione. E dopo quanto è accaduto, si diffonde una maggiore sensibilità della popolazione per quanto riguarda la cura e la manutenzione dei corsi d'acqua. Siano essi i fiumi, i torrenti oppure i fossi. E quello che evidenziano appunto i residenti di Borgo Sant'Antonio è importante. Perché occorre intervenire prima che accadano veramente quei disastri che sono verificati nei giorni scorsi, per evitare nuove tragedie. E poi è Palacampus San Lorenzo, il nome della futura palestra, una grande struttura che il sindaco dell'Onti si è presta a inaugurare tra qualche mese. Si tratta di una nuova palestra polifunzionale che è stata, che viene realizzata in Via Nenni e sarà inaugurata il prossimo autunno. Un impianto di oltre 900 metri quadrati, molto molto più ampio di quello attuale, una struttura moderna, è in grado di rispondere a tutte le esigenze della comunità. E' costato questo progetto 1,3 milioni di euro, di cui un milione a fondo perduto dal MIUR, grazie alla partecipazione al bando di edilizia scolastica, al quale il comune appunto di San Lorenzo in campo ha aggiunto 300 mila euro del suo bilancio. Vediamo a Senigallia, a Senigallia si parla ancora di ponti, ponti che sono stati disastrati dall'alluvione che fuoriuscita dal Mesa. Sicurezza per i ponti Perilli e Angeli, al Via la progettazione del ponte Garibaldi, che ora viene attraversato con una passerella pedonale. Ebbene, strunno strutture importanti per quanto riguarda Senigallia che stanno per avere compimento. Ed è l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento alla informazione di questa sera alle ore 20.30, TG di Fano TV, Occhio alla Notizia, condotto da Filippo Pucci. Grazie per l'ascolto, a risentirci. Grazie per l'ascolto.